bentornati amici di my football jersey oggi vediamo questa maglia secondo me bellissima questa è la prima maglia del celtic la versione player quella studiata per i calciatori a la maglia è molto bella tra l'altro in versione player risalta secondo me ancora di più bellissimo il tessuto bellissime tutte le rifiniture il costo lo vedete qui sopra beh fate voi i vostri calcoli se volete saperne di più trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale prima però iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi tutti i giorni maglie come questa per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao